Un evento in collaborazione con Inoditino e Gancia, Borsi Sprofone. Una grande serata di calcio su Italia 1. Per il ritorno del terzo turno di Coppa Italia, Juventus-Atalanta. Dopo i 90 minuti di Bergamo ritti di emozioni e gioco duro, Bianconeri e Nerazzurri si giocano a Baccesso ai quarti di finale nella sfida in programma al Delle Alpi di Torino. Domani sera alle 20.30 per il ritorno del terzo turno di Coppa Italia, Juventus-Atalanta. Chi ama il calcio sceglie Italia 1. Una tipone, tanti amici, una tipone, tanti amici, viene a te. Cinque amici e cinque voti, grande tipo. Attenzione! Alla samba c'è lo sconto del 15% sull'abbigliamento uomo e donna e del 10% sulla polleria. Sanna, il valore dei soldi. L'Innes presenta le specialità. Un panelino diverso per i diversi momenti della crescita. Specialità primi giorni e neonato. Per i primi giorni, questo piccolo taglio aiuta la cicatrizzazione dell'ongelito. Poi si passa a neonato più alto in vita per sostenerlo e proteggere il pancino durante la digestione. Specialità primi mesi. Nei primi mesi di liquido, lui non fa solo più piccoli, ma queste due barriere impediscono ogni tipo di fuga. Primi movimenti e primi passi. Stanno sempre su, grazie agli adesivi maggiorati e agli elastici in vita. Primi giochi. Un pannolino gigante per grandi canzioni di pipì. Specialità notte. Studiato apposta per assorbire la storia di pipì. Le specialità linee. E' questo lato. Ciao. L'ho aspettata tutta la notte. Ancora lei? E' come? No, grazie. Guardala da questo lato. Diciamo che tu ti sei fissato con il miele. Però puoi stare benissimo anche col burro, con la marmellata. O addirittura da solo. Che ne dici? Dico che mi è venuta fame. Fette biscottate, buitone. Il lato buono del mattino. Buitone, star bene a tavola. Ma, che succede nonna? Regalano acio detersivo. Ma no Giorgio, è acio detersivo che regala guzzini. Puoi avere questa splendida uliera, oppure questo servizio da Macedonia con solo due prove d'accio? Accio detersivo e guzzini. Che promozione, che tentazione. Questa settimana su Panorama. In che era? Io rublo. E tu? I partiti e finanziamenti dall'Escan. Esclusivo. Italia e l'atomica di Saddam. Videocassette. Il boom del porno soft. Panorama. Tutto quello che devi sapere. Ehi, mamma. Vilda. Ciao, ciao.